speriamo di non cadere ciao a tutti e bentornati sul canale con un nuovo video oggi mi trovo con esattezza a otranto alla cava anzi alla ex cava di bauxite mi sto arrampicando qui su questi canyon di terra rossa come potete vedere alle mie spalle adesso sto cercando di raggiungere la baia di orte che si trova praticamente un po più giù in direzione da otranto direzione sud quindi in direzione appunto alla cia e niente continuate a guardare il video fino alla fine perché ci saranno comunque tantissime sorprese quello lì in fondo e il faro di punta palacia il capo dotranto quindi il punto più a est di tutta l'italia dove sorge la prima alba questa che vedete di fronte a me è la baia di orte praticamente parte da qui continua lì dovrebbe essere con fondale sabbioso come spiaggia sinceramente da moltissimi anni che non ci vengo ci dovrebbero essere delle piccole calette di sabbia le vedremo siamo ormai molto vicini sono ormai molto vicino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si attraversa la pineta, si cammina con questo sterrato, saranno circa un chilometro e mezzo dal parcheggio. Giusto il tempo di fare questo pezzetto di trekking e di moto che fa sempre bene al nostro corpo. Oltre al caldo ci saranno come al solito i nostri famosi 40 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.